musica 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 benvenuti ragazzi io sono ayrnopro6 e per ritrovare in questo nuovo video sul mio canale e sono in compagnia di cazzo didi sono in compagnia di daniele graisis e basta e ma che cazzo didi sto facendo video oggi vi farò vedere una merda di bug in gta e si trova a questo punto qua e vuole andare qui e vi caprà dentro la sieve come vedete se poi riuscite lo mandate più dentro possibile sto bug l'ho scoperto per puro caso ragazzi che culo ecco qui ragazzi il bug è tutto il suo splendore e poi di andare anche sotto mappa sui tutta la mappa e ok è un cazzeggio quindi cazzeggiamo per prima cosa andiamo a prendere daniele graisis sono molto contento che vi sia piaciuto la nuova intro perchè ragazzi siamo arrivati a 18 iscritti quindi ieri eravamo 17 e oggi 18 quindi sono molto contento e speriamo che domani arriveremo a 19 così arriveranno speciali 20 iscritti e ma che cazzo dei ridi ma io non lo so io vi faccio io vi faccio che cazzo che chirota ah qui vi faccio vedere un altro easter egg sempre di mia scopertudine what the fuck e lufo schiacciato sopra il bar eh ahahah ahahah la intro me la guarda almeno una volta al giorno perchè è matitarne ragazzi non posso smettere di guardarmi ora andranno a prendere il nostro goglione di daniele dove sei? ieri 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 e no finta sali 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 che devono accade un altro bug che l'ho scoperto io baffanculo quello oh quello non è l'altra volta che siamo fatti sotto acqua ai foto sali sali allora tu ti sei venduto una casa di 400 mila dollari per una casa dei tu posti luoghi ieri ieri ma ieri a a ieri merda ragazzi io voglio dire faccio il seno a se arrivo a 20 iscritti farò la intro tipo come pepo io ho domini di amante simile a guardia no niente sono cose in arrivate poi nel video dei 20 iscritti vi dico solo che sarà un raro di tutti gli youtuber che ho sui PSN quindi EMA51001 però più 23 0701 vabbè non mi ricordo poi che ne so xx alien 10 xx poi c'ho ma chi se ce l'avevi un miliardo io ce ne avevo 117 dei miliardi 10 ne avevi uno mazza se ce l'avevi unici f occia chat from ok il video orafard notarci a com o o un certo la patata di gli italiani Che cazzo le ridi? Non sai come si scrive Eh Eh Non te puoi sbagliare Sono youtuber Sei più famoso d'Italia Con 18 iscritti Non te puoi sbagliare Guarda Ma come? Ma hai scritto Christiane con l'H C-H-R-I Ma che No Che figura di merda in diretta Che cazzo Malefocca Non c'è 10 Che cazzo Sempre la Porca droga Aspettate un attimo ragazzi Che mi sono un architofono Che cazzo Sempre la Ho No, no, no. Allie ecco. cominciamo a genza sapate io sarà un po' pallosa quindi mandare il video avanti camminare la zicca zacca, camminare la zicca zacca, camminare la zicca zacca, camminare la zicca zacca io no è stato schifo il pallone non mi piace il calcio solo quando gioco io non mi piace si però non me la vedo perchè non mi va non mi piace sali vado fuoco vado 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 questo video speriamo lo farò 15 minuti ragazzi perché sennò un'altra volta 31 minuti tutta la notte sarà cariato il giorno intero sarà cariato quant'è lento questo dicottero è vero guarda lo farà dura 20 minuti sono passarello più la intro che dura 24 secondi più la contro che dura un minuto semplici si guarda 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 che d'acqua guarda che d'acqua il batto è molto scomitivo guarda tanto morire via io c non è la ipad e nella ipad 4 6 4 questo video 6 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 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 9 9 10 10 11 bella l'arancione il pollo cazzo era il bug ma era qua? era qua? era qua? si è qua si è qua però si sa che si è sbagliata la partita o hanno corretto il bug? perchè se no era qua mamma mia veramente era qua il bug oh oh quanti minuti sto fa? ancora 14 minuti a 20 pata 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 tanto non a troverne mai perchè quella era si trova una volta al lano con la macchina eeeh all'incirca io parlo sopra mostricina del mio put eeeh all'incirca il respetare le spalle non 4 vortà eeeh all'incirca 3 C'avevi? Escolta, ora è venuto con la casa e non c'era più E' un po' che altro? Ehm... Ehm... C'è me so io? usa te non lo so che ne so sta di te non lo so sta di te ma che ne so ma cagano sta di te no lo sa sto moltissimo no 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 mamma mia dai la fai dai lo so da Montecilia perché lui c'è l'elicottero da quando no si è il giunto che è armato di più no no non posso far me la volta perché poi non posso mancare una pia ecco no no non posso no non 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 no non finito no non vittoria butte 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 alasca ilasca eccolo eccolo eeeh boom vabbè ciao